Allora, siamo vicini al Natale 2019, al Circo della Stampa di Avellino, il professore Stefano Orga, che è qui vicino a me, insieme ai genitori, insieme a tutti gli amici dell'MDL, ha inaugurato, sta per inaugurare questa bellissima mostra sul Novecento Napoletano. È un bel regalo che Stefano fa alla città di Avellino. Naturalmente noi idealmente abbracciamo tutta quanta la città, la salutiamo e la invitiamo a venire qui a vedere questi capolavori e a passare un dieci minuti, un quarto d'ora, un'ora, ma anche dieci ore a guardarli perché si sta bene, per avere un momento di bellezza anche ad Avellino. Prego. Buongiorno a tutti e vorrei ringraziare il professor Stefano Orga perché con questa mostra ricca con ben oltre 40 tie resposte ha regalato un'emozione straordinaria che poi è aderente all'atmosfera natalizia. Il viaggio nella grande arte del Novecento, nella tecnica ma anche nella sensibilità di grandi maestri del secolo scorso che purtroppo nell'arte contemporanea ma non solo nella vittura, anche nella scrittura, nel cinema probabilmente non ritroviamo più. È una lettura anche della nostra anima perché la missione dell'arte è elevatoci spiritualmente quindi cercate di venire nella giornata di domani a fruire della straordinaria carica di sensazioni, di pulsioni, di emozioni di questa collettiva che è un viaggio nei valori più autentici dell'uomo e anche nella percezione poi della natura che deve accompagnarci nella ricerca di un'entità trascendente. Grazie Stefano, grazie a tutti voi.